Noi, ringraziando Dio, stiamo reggendo, ma reggere quattro ospedali, in quattro ospedali quattro chirurgie, quattro anestesie, quindi quattro pronto soccorso, siamo un po' in sofferenza. Lei ha detto che fate i concorsi, ma per alcuni settori addirittura non partecipano. Zero, sì, non c'è neanche un partecipante, ad esempio medicina, l'ultima situazione si verifica con la medicina, ieri la dottoressa Di Marcio, responsabile personale, mi ha detto che non ha partecipato nessun concorrente, quindi la situazione è questa. E poi secondo voi? Eh? Perché secondo voi? Perché vanno riviste anche le condizioni economiche, a mio giudizio, cioè uno che sta al pronto soccorso non può prendere come uno che sta in una corsia oppure in attività molto più leggera e molto più, come possiamo dire, non è che il medico non ha una responsabilità nell'attività che compie, ma un conto è uno che sta in pronto soccorso, che deve dare una risposta immediata al paziente, invece chi nel momento in cui è in un reparto ha la possibilità di studiarlo il caso, di approfondirlo. Quindi, però ecco, quello che emergeva l'altro giorno, sono stato a Roma, nella fondazione Gimba ha presentato il rapporto con la società della mana, il post pandemia per i medici e servizi sanitario ci sono tanti che sono andati in pensione, tanti che sono licenziati e tanti che stanno andando al privato, perché c'è una sfiducia verso il pubblico, dovuta anche a fattori economici, dovuti anche a fattori, forse anche mettiamoci pure la pandemia, che ha stressato il personale e quindi, come possiamo dire, la gente si sente un po'... Quale può essere un problema di organizzazione di pronto soccorso? Come? Ci può essere un problema di organizzazione di pronto soccorso? Ma ci potrà pure essere un problema, ma è la pressione che è stata alta dal Covid, la pressione alta tuttora, la pressione che ti mettono anche i pazienti quando vengono perché vogliono tutto e subito, cioè è ovvio che è un pronto soccorso, se nel momento in cui ti arrivano due o tre casi di codici rosso la situazione viene notevolmente compromessa dell'attività, se c'è da aspettare la gente si spazientisce e cominciano le problematiche. Quali sono le figure professionali che mancano all'asile di Teramo? Noi mancano gli anestesisti, mancano cardiologi, mancano medici del pronto soccorso, dell'emergenza urgente, della medicina, sono tante delle specialità che noi facciamo concorsi ogni giorno, il nostro ufficio personale è veramente stressato per tutte le attività che deve porre in essere per fare i concorsi, però questa è la pura realtà, non è che è una realtà Teramano, è una realtà nazionale, ve l'ho letto, questo è stato il rapporto che ha fatto il Presidente Cartabellotta del Gimbe e quindi che è una delle società italiane più importanti per questo. Manager, ma si può quantificare il numero di medici che mancano? Il numero di anestesisti ne mancano un bel po', come i medici del pronto soccorso, se io trovassi 10 anestesisti prenderei domani, oppure se trovassi 15 mesi di pronto soccorso prenderei domani, non ho problemi a assumermi queste responsabilità.